Rapporto! Abbiamo perso l'energia principale, scuti disattivati, armi fuori uso. Forse oggi è il giorno giusto per morire. Pronti alla massima accelerazione! Signore, c'è un'altra astronave in avvicinamento. È l'Enterprise! Hanno perso il supporto vitale. Lancia a teletrasporto 3. Teletrasportare i superstiti della Defiant. Capitano, la nave dell'Amiraglio è stata distrutta. Le condizioni del Cuba Borg? Ha subito gravi danni allo scafo esterno. Sto registrando fluttuazioni nella potenza di energia. Sullo schermo. Numero uno, apra un canale con la flotta. Canale aperto, signore. Qui è il capitano Picard dell'Enterprise. Assumo il comando della flotta. Puntate tutte le vostre armi sulle seguenti coordinate. Fuoco al mio comando. Signore, le coordinate che ha indicato non sembrano essere un sistema vitale. Si fidi da te. La flotta ha risposto, signore. Sono pronti. Fuoco. Fuoco. Signor Oak, segua la rotta. Attivare. Dobbiamo arrivare alla Fenix. Al diavolo la Fenix. Al diavolo la Fenix. Al díavolo la Fenix. Al diavolo la Fenix. Assumo. Grazie a tutti.